Non è l'esordio che ti aspettavi con la sconfitta? No, esordio amaro, purtroppo questo episodio ha deciso la partita, però non ci dobbiamo scoraggiare, testa subito alla prossima che è tra pochi giorni. Ti chiedo solo al volo se hai parlato con Filippo Pellacani perché non ci arrivano buone notizie. No, non sono riuscito a parlarci.